Sine Gucchiali, questa mattina si è svolta la consueta conferenza stampa per illustrare il bilancio di fine anno, un anno che sicuramente è stato difficile per la situazione pandemica. Un anno difficile, però l'abbiamo chiuso con un avanzo d'amministrazione, oltre 600 mila euro per mettere in sicurezza la viabilità, la strada, gli asfalti e quindi un anno che si chiude positivamente con non tantissimi contagi. La gente è stata abbastanza attenta, tant'è che chiedo di continuare a fare i vaccini, a stare attenti, a non fare assembramenti, a non fare baci e abbracci anche dell'ultimo dell'anno. Grande attenzione. E con quali aggettivi si ci sono e definirebbe questo 2021? Il 2021 è stato un anno difficile, però abbiamo navigato nella Valle del Fare in controtendenza e ci siamo riusciti a uscirne bene, cosa che speriamo di poter fare anche il 2022. E qual è l'opera più importante che avete realizzato quest'anno, cui tiene di più? L'opera più importante è la rimessa a nuovo del Teatro Branca Sant'Angelo in Lizzola, del nuovo depuratore dell'asta fluviale del Foglio dopo quello di Borgheria e in corso il nuovo comune, il nuovo teatro. Quindi direi che sono tante le opere pubbliche che insieme a quelle private, che sono altrettanto importanti, per oltre 50-60 mila metri di capannoni nuovi, che danno l'idea, oltre al centro di coesione sociale che assumerà 150-170 persone, per 50 milioni di investimenti, e che a Vallefoglia nel 2022 ci saranno centinaia di posti di lavoro, crescita, sviluppo, benessere e futuro. E auguro a tutti un buon 2022.